buongiorno a tutti benvenuti a questo primo webinar tenuto da icos sulle tecnologie di clavister che si chiama clavister e icos istruzioni per l'uso vi ringrazio di essere di aver partecipato di essere molto numerosi e diamo dire di dare via a questo webinar io sono mi chiamo michele bondi sono il cyber security vision manager di icos e mi occupo di tutte le tecnologie inerenti a cyber security oggi con noi abbiamo anche alessandro predieri che il country sales director per l'italia di clavister e anche massimo tosoni che l'altro regalatore che il security engineer di icos e che si prende cura di tutte le soluzioni della cyber security in particolare appunto di clavister oggi parleremo di clavister chi è clavister diciamo che clavister è un vendor è uno dei pochi vendor se non l'unico vendore europeo che costruisce firewall e da sempre ha un portafoglio di prodotti molto ampio e vasto che viene chiamato aurora framework che di fatto garantisce tutta quella che è la sicurezza perimetrale le vpn e anche la sicurezza dell'empoint per le reti aziendali dei nostri partner security by sweden è un bel logo che che di fatto sta a indicare che i prodotti clavister si freggiano del fatto di non avere backdoor e di essere uno dei pochi vendor cioè non l'unico di non avere mai avuto backdoor al contrario di altri altri vendor che producono firewall non di origine non di costruzione europea io darei quindi adesso la parola per la presentazione ad massimo tosoni che come dicevo è il nostro security engineer di icos grazie a tutti e buon webinar grazie 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 michele benvenuti a tutti quindi partiamo con con la prosecuzione del webinar michele ha parlato di un portafoglio prodotti bello fornito quello di clavister con cui icos ha dato luogo appunto a questa collaborazione nata già dalla fine del 2019 che si protrae per tutto il 2020 con buonissime prospettive andiamo a vedere quello che è il portafoglio prodotti di clavister un vendor di sicurezza non può esimersi da avere un portafoglio dedicato appunto alla sicurezza quindi a soluzioni di identity e access management per l'autenticazione l'autorizzazione e quindi identificare e autorizzare l'accesso ai dati aziendali e dati sensibili e dati critici quali sono questi prodotti sono il clavister easy password di clavister easy access che si occupano appunto della parte di identity access management chiaramente deve gestire la sicurezza a livello di endpoint a livello di device e quindi nel momento in cui questi device accedono ai dati aziendali lo facciamo con il clavister one connect one touch one pass e chiaramente la parte di anti malware e di threat protection threat prevention che è l'endpoint client il webinar su cui sui cui prodotti è incentrata alla giornata di oggi sono i prodotti della serie network security della della del portafoglio prodotti di clavister che si occupano della sicurezza della rete quindi il firewall quello banalmente e universalmente concepito per proteggere a livello perimetrali le le reti e i dati aziendali clavister appunto nel proprio portafoglio a un prodotto che si chiama net wall riconosciuto a livello mondiale che è il firewall e altre soluzioni che prevedono la protezione della rete quale il net shield il net i poi citeremo molto velocemente a cosa servono questi questi prodotti e i prodotti inevitabilmente visto il momento disponibili sul cloud dei servizi in cloud che sono i servizi di management in particolare di in center e di net i come dicevamo i prodotti su cui è incentrata la il nostro webinar che di cui andiamo a discutere oggi sono i prodotti di del firewall i prodotti fare un attuale le piattaforme network che sono disponibili a portafoglio clavister principalmente le soluzioni di clavister si suddividono in tre fasce che sono i modelli desktop quindi orientati ai branch office orientati agli studi o comunque a quelle realtà più piccole quindi le pmi i prodotti della piattaforma dedicati invece a un ambiente enterprise e anche dedicati a una soluzione di montaggio a rec oppure da un po di anni a questa parte molto apprezzati sono i modelli virtuali modelli virtuali definiti come virtual appliances cioè degli oggetti che girano in ambienti di virtualizzazione questo permette di slecarsi dal dall'appliance dall'hardware dal dal volgare ferro come è stato definito in questi questi ultimi in questo ultimo decennio e quindi come rendere una soluzione di sicurezza portabile maggiormente negli ambienti di virtualizzazione e quindi molto più mobile e scalabile anche i prodotti della serie net wall partono come dicevamo da una versione desktop che è la serie i contraddistinta appunto da un numero che ne indica la dimensione le performance e le caratteristiche del prodotto abbiamo i net wall e 10 che sono per clavister l'entry level firewall questi prodotti sono come dicevamo prima indicati per l'adozione in branch office piuttosto che in uffici in ambienti casalinghi ad esempio o in uffici comunque in in ambienti artigianali dove il numero di utenti e il numero di performance è un po' più limitato rispetto a quella che è la soluzione una soluzione aziendale ben ben più ampia andiamo da performance da un gigabit di throughput fino ai 4 gigabit di throughput del net wall e 80 serie pro con performance che potete vedere dalla tabella in merito a vpn connessioni concorrenti e numero di interfacce ethernet di porte banalmente a cui con cui possiamo collegare e definire quindi la nostra la nostra rete aziendale la nostra rete e il nostro ufficio tutti gli oggetti tutti i firewall sono basati sul sistema operativo proprietario clavister che è il c os core passiamo invece la versione rack mounted che vanno dal la serie quella della w con il numero che identifica le performance e le caratteristiche dell'apparato che vanno dal net wall v 20 al net wall v 50 questi soddisfano invece caratteristiche e performance ben di più elevate necessità quindi qui partiamo effettivamente dal 20 standard da un firewall che è un throughput di 4 gigabit per secondo fino al net wall v 50 pro che arriva 55 gigabit per secondo quindi anche a livello di vpn abbiamo un throughput di tutto rispetto dal gigabit agli 8 gigabit per secondo come vedete particolarmente interessanti sono anche il numero di connessioni contemporanee anche anche in questo caso il numero di interfacce può essere customizzato in base alle esigenze e in base alle necessità della della rete del cliente inoltre ci sono moduli e caratteristiche della della serie net wall che possono essere ulteriormente espanse con moduli aggiuntivi che prevedono ulteriori porte ethernet per 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 estendere le funzionalità anche in questo caso il sistema operativo è proprietario clavister passiamo quindi ai virtual appliance che sono l'equivalente della macchina dell'hardware fisico in versione virtualizzata in questo caso è un po particolare parlare di performance perché naturalmente come tutti noi sappiamo questi virtual appliance risiedono su nostre di virtualizzazione quindi le caratteristiche di performance dipendono in parte indubbiamente da l'architettura dell'appliance ma in parte dipendono necessariamente dall'hardware su cui vengono implementati quindi non ha senso giustamente parlare di throughput se la scheda di rete o il processore dell'host che ospita il virtual appliance non è adeguato non è dimensionato per supportare certe caratteristiche dell'appliance stesso che vi gira all'interno indicativamente però con appliance con con host scusatemi di categoria superiore e quindi di categoria enterprise quelli che sono certificati dal dalle versioni di hypervisor che su cui clavister è supportato indubbiamente queste questa è una tabella assolutamente attendibile per quanto riguarda le performance del virtual appliance le versioni di hypervisor supportate e certificate da clavister per far girare i propri modelli virtuali sono come vedete in evidenza in basso nella slide il vmware v sphere naturalmente kvm e il microsoft hyper v che sono diciamo le piattaforme di virtualizzazione più comuni più diffuse inoltre abbiamo voluto dare un taglio particolare a questo webinar per introdurre indubbiamente una modalità di connessione e di supporto al telelavoro allo smart working che sicuramente tutti conoscono ma che vogliamo ribadire essere estremamente vantaggiosa perché vantaggiosa parliamo di ssl vpn o vpn over ssl queste questa tipologia di connettività ai dati aziendali da remoto è stata originariamente introdotta innanzitutto per le limitazioni che che introduceva l'ipsec tradizionale ad esempio l'usabilità l'interoperabilità tra i vari sistemi operativi e tra i vari device e anche la scalabilità cioè all'aumentare degli utenti o delle feature non sempre era la la soluzione andava di pari passo alle esigenze aziendali e poi si aveva la necessità di rendersi indipendenti appunto dal sistema operativo o dal device che aveva necessità di collegarsi ai dati aziendali e quindi alle reti aziendali questo protocollo inoltre risulta estremamente adattabile all'utilizzo in situazioni di bi o di cioè bring your non your own device molte aziende in particolare in questo periodo di coronavirus o covid 19 chiamiamolo questa questa situazione di particolare eh emergenza in cui gli utenti sono dovuti rimanere a casa e in molti casi non c'è stata neanche il tempo necessario per predisporre un ambiente affinché gli utenti potessero lavorare in tranquillità e in sicurezza da ambienti domestici non tutti necessariamente avevano un portatile o erano dotati di un device mobile quindi ci siamo trovati in alcuni casi in realtà in cui a casa l'utente finale avesse già un computer avesse già un device ma che dovesse essere adattato per l'attività lavorativa quindi la 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 cosa comune che ha trovato eh l'azienda è stata che questi device normalmente su questi device è installato un browser web che è la eh l'esigenza principale da cui partire per utilizzare questo tipo di eh tecnologia di eh remote working quindi l'SSL VPN ha preso piede sempre di più proprio perché è una modalità di connessione che come prerequisito ha ha un prerequisito che normalmente sui device oggi in commercio e oggi disponibili è già eh preinstallato quali sono i pro portabilità quindi lo lo posso utilizzare su device diversi nella stessa modalità praticamente equivalente facilità perché è estremamente eh user friendly o user oriented e l'utilizzo e la configurazione normalmente non richiedono eh l'intervento l'effort eh di di un tecnico è appunto una impostazione una configurazione che qualsiasi eh utente abbia un minimo di dimestichezza con un device può svolgere in autonomia di contro essendo un protocollo eh che necessita di cifratura decifratura e comunque di caratteristiche ehm eh particolari nell'utilizzo dei di di grosse molie di dati è necessaria una maggiore potenza di calcolo e qui Clavister ci viene incontro perché l'SSL VPN l'abbiamo detto è un'attivazione che con Clavister è una configurazione che con Clavister risulta estremamente facile e immediata è un passaggio è un'attivazione in due passaggi quindi è è un'implementazione che si può svolgere per chi conosce meglio il prodotto anche da riga di comando o può essere svolta in maniera completamente equivalente da interfaccia web quindi dalla dalla console web di di amministrazione del prodotto qui vi ho riportato quelli che sono i passaggi i due passaggi principali da riga di comando il primo il primo punto è la creazione della interfaccia su cui il firewall accetta la richiesta di connessione quindi espone la funzionalità di VPN over SSL poi vedremo meglio i parametri che vengono passati anche nell'interfaccia grafica perché di più facile intuizione rispetto alla riga di comando quindi è necessario definire semplicemente un'interfaccia alcuni parametri che poi andremo a vedere e quello che è un'autentication rule cioè dove ascolto chi mi richiede la connessione e come autentico come in che modo vado a autorizzare quel tipo di richiesta di accesso come vi dicevo è un passaggio che può essere fatto è una è un settaggio un'implementazione che può essere fatta sia di riga di comando che da interfaccia web molto più intuitiva è l'interfaccia web che andiamo a vedere in questa slide quindi nella nel menu nella sezione riservata alla network se andiamo a vedere nel menu interface e VPN c'è un campo che identifica appunto l'SSL l'SSL nella parte di VPN e tunnel qui rivediamo gli stessi parametri che abbiamo visto da riga di comando quindi semplicemente basta definire quello che è il nome della SSL VPN interface l'IP interno a cui fa riferimento la richiesta di connessione l'interfaccia su cui questa questa richiesta può arrivare e a questo punto qual è l'indirizzo IP e la porta a cui il server può rispondere ed accettare la richiesta qui siamo ancora nella fase di definizione dell'interfaccia quindi vado a definire anche con un SSL VPN pool come deve essere assegnato l'indirizzo IP al client quindi se è il firewall stesso che definisce un pool di indirizzo IP da assegnare al client o se lo devo in qualche caso richiedere ad esempio a un DHCP server e su quale interfaccia questo DHCP server funziona o comunque risponde alle richieste inoltre posso definire ulteriormente quelli che sono i server DNS distinguishing server o services che dir si voglia che risolvono i nomi a cui voglio accedere posso inoltre definire come opzione quali sono le rotte a cui voglio che il mio client quindi le reti aziendali con una una rotta statica quali sono quelle reti a cui il client può accedere come abbiamo detto prima è necessario oltre alla definizione dell'interfaccia di SSL VPN anche la definizione di una authentication rule quindi si mi arriva la richiesta di connessione e io vado ad autenticare chi e che cosa mi sta chiedendo di accedere e a quale rete o risorsa o dato mi sta chiedendo di accedere quindi ho bisogno di autenticare la richiesta di connessione l'autentication rule banalmente è la forma di di riconoscimento dell'utente la faccio semplicemente definendo un nome il protocollo cioè l'autentication agent su cui mi può arrivare questa richiesta in questo caso le due tpp ptp sslvpn quindi quello che è l'autentication source che può essere autentication source locale cioè il database locale del firewall dove io vado a definire gli utenti o un autentication source esterno un radius un active directory o comunque una qualsiasi forma supportata di autenticazione che il firewall clavister supporta l'interfaccia a questo punto diventa la mia interfaccia sslvpn che fa la richiesta di autenticazione per conto del client e l'ip a cui faccio riferimento ho inoltre un una sezione opzionale in cui posso decidere se chi accede con questa tipologia di protocollo con questa tipologia con questo meccanismo di accesso da remoto possa accedere a tutte le reti cioè tutto il traffico venga in stradato attraverso il mio firewall con questa opzione questa opzione la trovo nel menu che stavamo guardando prima sotto la sezione network nel nella parte di vpn tunnel ssl e come vedete qui il il routing option prevede che tutto il traffico generato dal client venga estradato attraverso il tunnel vpn e questa è l'impostazione di default oppure posso essere ancora più selettivo e dire no soltanto il traffico che va verso queste reti deve essere estradato attraverso il tunnel vpn questa è una granularità interessante che permette anche una certa autonomia al client nella gestione della propria connessione di rete la parte abbiamo visto qual è la parte di configurazione lato firewall che cosa troviamo invece lato client lato endpoint e la connessione lato endpoint si perfeziona appunto con il clavister one connect one connect che il la parte evidentemente endpoint di chiusura del tunnel vpn qui vediamo due esempi chiaramente come si presenta lato client il client può essere scaricato liberamente da da internet è disponibile sia per mac os che per windows e può essere scaricato anche dalla pagina del del firewall stesso nella alla prima richiesta di connessione del tunnel vpn immagino che tutti voi abbiate avuto modo almeno una volta di verificare questa questa necessità a questo punto io passerei la parola per quello che riguarda il seguito di questo webinar ad alessandro predieri sales director per l'italia di di clavister prego alessandro sì grazie massimo per le chiare indicazioni dal punto di vista tecnico ovviamente sono ad alto livello ma qualora ci fossero ulteriori richieste di approfondimento siamo disponibili anche grazie a michele per l'introduzione nelle prossime pronto nelle prossime slide andiamo ad analizzare quello che è il partner program sono circa sei slide dove voglio evidenziare che cosa sostanzialmente l'interazione che clavister mette in campo sul per supportare i partner non vedo le slide non so come mai mi sentite allora io alessandro sì ti sento non vedo più le slide sto procedendo con le slide io ho in presentazione la clavister partner program se qualcuno mi dà un riscontro attraverso la chat no c'è la pagina iniziale io non ho perso le slide vabbè posso andare sul offline sulle mie e tu le puoi scrollare non so se gli attendi vedono le slide in questo punto eccolo scusami credo di averlo ripristinato ci siamo ci sono perfetto quindi venendo al discorso il program è sicuramente un programma dove il messaggio che voglio passare è quanto clavister mette in campo per ottimizzare e rafforzare la relationship tra clavister e i partner è diviso sicuramente in quattro macro aree quattro steps dove da destra verso sinistra diciamo si parte da un livello base di registra tale per cui qualsiasi licenza che un partner vuole viene venduta è sicuramente necessario una registrazione per per cosa per qualificare il partner capire ovviamente l'intenzione a collaborare con clavister ed è il primo step assoluto necessario per per iniziare a collaborare quindi in questa line da destra verso sinistra sì che si diciamo si cresce nel livello di partnership e la crescita nel livello di partner si comporta sicuramente un mutuo impegno sia da parte di clavister ma anche da parte del partner a che cosa cercare di collaborare cercare di ottimizzare le risorse ad esempio per essere concreti la prima livello del silver partnership è diciamo la possibilità di avere degli apparati ad esempio in nfr che il partner può utilizzare per i suoi scopi per le sue demo cosa prescini cosa prevede questo in questo livello sicuramente un ingaggio da parte del partner a avere un corso di certificazione a dimostrare a clavister che vuole addentrarsi sempre di più nelle tecnologie e acquisire una padronanza clavister in questo da questo punto di vista ovviamente offre tutto supporto salendo nella scala i gol partner sono persone che comunque hanno già una esperienza a livello di gestione del partner sicuramente un'esperienza temporale e anche di conoscenza degli apparati per poi arrivare a un platinum che ovviamente accede a dei servizi adesso dedicato di un certo tipo e che prevede sicuramente una militanza in ambito con la conoscenza di clavister di un certo tipo un accesso a delle risorse dedicate impegno anche di clavister in supporti eccetera ovviamente un platinum si prevede che possa credere e anche progetti di un certo tipo a alla base di tutto questo ci sono anche un progetto di mssp aspetta ancora la slide precedente che verrà lanciato e ufficializzato come il nuovo programma mssp a partire dal primo di maggio c'è già stato un webinar seguirà un altro webinar di clavister dove verranno spiegate nel dettaglio next light la slide succe quente e sono i vantaggi mi piace dare pochi messaggi ma vantaggi ovviamente sono partendo dal registro ovviamente è il primo step a un certo tipo di vantaggi se salgo devo sicuramente avere come dicevo un silver ha già un prodotto di nfr come ad esempio un platinum può accedere a un concetto di registration tengo a precisare una cosa che in questo momento è mia intenzione essere attento e a ogni richiesta di partner ovviamente che debbano dimostrare impegno ad esempio ci sono partner che sono magari uno stato gold ma che ambiscono a diventare platinum e lo stesso silver che ambiscono a diventare gold ecco non è diciamo mia intenzione comunque anche avere delle attenzioni tali per cui un partner gold sebbene questa slide non identifichi la possibilità di accedere al deal registration ma di trattare a in questo tipo su uno specifico progetto essere attenti a avere anche questo concetto di deal registration per cui partner che si dimostrano sicuramente proattivi attenti eccetera sostanzialmente ci sono queste regole sono scritte ma vanno poi anche adattate e con l'attenzione specifica di case by case è mia intenzione supportare con estrema attenzione cura capendo bene le esigenze dei vari partner per creare un percorso io sono convinto che bisogna creare un percorso di estrema fiducia trasparenza eccetera per cui i vantaggi poi si non sono proprio delle colonne fisse ma ovviamente c'è una finestra dove si interfacciano e si sovrappongono i vantaggi che vedete in questa live nella next slide i requisiti anche in questo sicuramente nel momento in cui un'entità vuole avere contatti con clavister questo sicuramente deve registrarci ci sarà da fare una serie di operazioni tra cui identificare e stabilire ovviamente un agreement non in questo momento non viene richiesto una vendita non deve essere scritto o comunque concordato un volume di vendita anche se ci sono con alcuni è già stato fatto sono state prese degli accordi e questo dimostra il fatto di se da una parte c'è un partner che vuole investire in clavister dall'altra parte ovviamente clavister investe a sua volta nel in questo percorso da fare insieme ci sono sicuramente delle politiche di forecasting dal gold in su e mia accortezza comunque mia intenzione e lo sto facendo con questi tipi di partner sentirmi sicuramente mensilmente per alcuni mi sento anche più spesso ma ovviamente essere vicino alle esigenze e a portare ogni possibile dire direzione o modifica alle esigenze in maniera puntuale siamo sicuramente ecco la cosa bella che mi piace che possiamo essere in contatto in maniera molto diretta e immediata ecco incontri trimestrali o gli eventi marketing sicuramente in questo momento sono scritti ma covide 19 ci insegna che alcuni alcune di queste cose sicuramente vanno vanno riviste sicuramente nel momento in cui incontri virtuali o eventi virtuali sono sicuramente ben accetti o possibili grazie anche al supporto di icos su piattaforme loro che mettono a disposizione questo siamo sicuramente aperto per quanto riguarda le certificazioni vedete questi numeri questi numeri sono diciamo in teoria ma ovviamente bisogna poi calarli nei vari mercati nelle varie entità o nelle varie società che vogliono accedere alla collaborazione con clavister anche qui io credo che ci sia e sono stati fatti sono in corso dei piani di certificazione ad hoc perché alcune entità ovviamente non hanno a disposizione o sebbene vogliono ambire un livello gold ma non avendo a disposizione le risorse in italia ci sono tanti partner magari proprio fisicamente sono composti da un numero esigo di persone ovviamente non posso chiedere a una persona o due persone di fare la stessa certificazione per cui c'è un piano ad hoc per loro accessibile e ovviamente concertato sia con me ma anche con il distributore col quale confermo di avere un'ottima collaborazione e un'ottima intenti e sinergia direi di procedere con l'altra slide ovviamente le certificazioni una volta acquisite c'è un programma di training verrà vengono riconosciute con a livello online con certificato elettronico e poi la classica placchetta da consegnare eccetera al volo proprio i corsi ecco su questo devo dire clavister in questo momento investe molto anche da abbiamo fatto anche proprio da marzo abbiamo investito molto sulla certificazione online tra mister in questo momento è molto attenta e molto collaborativa nel momento in cui c'è la percezione che il partner vuole investire ecco mette su a disposizione l'accesso a questi corsi tenuti da esperti di cui se potete vedere spaziano su tutto il portafoglio ovviamente sui denti access management su device security o su netwall o i programmi net shield eccetera focalmente abbiamo più corsi in netwall perché storicamente netwall è la piattaforma più più diciamo utilizzata o comunque storicamente quella dove ci vede sono diversi in base alla specializzazione in base all'argomento e diciamo sono tenuti la sede centrale in lingua inglese hanno una ottima riscontro dal punto di vista sia della lingua e dal punto di vista del training e dei laboratori che vengono fatti e a seguito del corso poi viene rilasciato un voucher per accedere all'esame di certificazione sia tre mesi per certificarsi come ho detto prima clavister in questo su questo in questo momento particolare è molto attenta e molto disponibile a creare un percorso di certificazione dei partner sia storici ma anche dei nuovi ecco con un respiro diciamo se dovesse accadere a breve ecco da qui alla fine dell'anno eccetera sicuramente ecco fare un percorso di certificazione online c'è allo studio anche un bell'idee di certificazione anche in italia tramite il distributore ma questo è sono lavori in corso l'ultima slide credo sia ecco questa la promozione che è in corso per tutto il 2020 per i nuovi partner ovviamente per chi si vuole unire a clavister abbracciando appunto un'idea di diventare un diciamo il punto di riferimento per quanto riguarda la cyber security a livello europeo gli eventuali nuovi partner che si approcciano a questa promozione che va bene senza entrare troppo nel merito dei numeri ma sicuramente c'è un vantaggio sul diciamo l'offerta dal punto di vista hardware e sulla parte componente software si entra si accede per circa sei mesi a un livello di partner gold per poi dopo ovviamente stabilire il livello giusto e appropriato della partnership accesso a politiche a macchine in nfr e sicuramente un supporto dei servizi professionali che sono sia erogati dagli distributori in italia ma sicuramente anche dai servizi professionali diciamo dalla che vengono erogati direttamente dalla sede centrale in svezia ha sicuramente un prezzo vantaggioso è valido per tutto il 2020 fino al 31 12 qualsiasi informazione potete fare riferimento a me o massimo o a michele che potranno darvi tutte le informazioni necessarie io ripeto questo webinar era dedicato principalmente al prodotto network un approfondimento ssl il portafoglio l'avete visto è comprensivo di tante altre cose e sicuramente in futuro ci saranno altri webinar dove credo ci analizzeremo anche gli altri aspetti io per la mia parte avrei finito ripasso la parola o massimo a michele sì grazie mille grazie mille alessandro per il tuo intervento molto preciso e puntuale come sempre e ringrazio anche massimo per averci spiegato esattamente come funzionano le vpn e per aver fatto una panoramica sui prodotti dire di dare via a qualche domanda se se c'è intanto ne faccio una io per la configurazione di una ssl mediamente qual è il tempo di diciamo così che è necessario grazie michele guarda il tempo come abbiamo visto è un'attivazione in due passaggi quindi tempo di attivazione compresi i test ci vogliono dai 10 e 15 minuti quindi si mette nelle condizioni un'azienda veramente di essere raggiungibile disponibile anche dall'esterno in modalità smart working veramente in tempi zero sì io avrei anche un'altra cosa mi è piaciuto e confermo perché il fatto anche di poter scaricare il client dal firewall senza doverlo prima scaricare altrove non perché c'è la prima pagina dove tutti i colleghi e poi scegli il client poi anche da fare esattamente la prima connessione ti rendi conto subito della disponibilità del client dalla pagina di autenticazione quindi ti chiedo chi sei e ti do l'oggetto necessario affinché tu possa completare la procedura di accesso banalmente a tempo zero tutti i colleghi hai già il download del client e poi chiesto poi accedi non è che devi prima a fare chissà che cosa questa è anche una cosa come e come avrebbe dito durante la presentazione anche l'installazione o la configurazione client non richiede competenze sistemistiche cioè non dobbiamo essere gli esperti della rete o gli esperti del software per completare con successo l'installazione del client one connect vedo una domanda esiste la modalità 2 fa 2 fa immagino che sia perciù forma authentication e sì c'è un prodotto una una soluzione clavister che permette di utilizzare anche multifactor authentication in questa maniera si bypasserebbe il fatto che la sola username e password può essere una diciamo così un sistema che ormai superato e vulnerabile ci si confermo bravo massimo confermo anch'io che tutta questa nel pacchetto portafoglio ovviamente webinar è indirizzato a net wall e ssl ma ovviamente c'è nel portafoglio c'è quello che viene chiamato easy access che è proprio un prodotto customizzato multifactor authentication dove si bypassa la username e la password si può accedere a un'autenticazione a due fattori con l'installazione di un app sul cellulare con il riconoscimento biometrico fingerprint o facciale per incrementare il livello di credo si chiami una strong authentication no multifactor authentication dunque per incrementare l'autenticazione sì 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 assolutamente interessando corretto multifactor authentication o strong authentication poi alla fine intendono la stessa cosa è integrato è il nostro prodotto easy access che può essere nel portafoglio sono tutti mattoncini ovviamente i mattoncini vanno incastrati in uno certo tipo di di sequenza ma è disponibile molto bene io direi che se non ci sono altre domande ecco se non ci sono altre domande io terminerei qui questo webinar sarà mia premura di darvi il link a cui andarlo rivedere che poi di fatto è nel nostro canale youtube icos e quindi e vi manderò a tutti anche tutti i riferimenti e le presentazioni di clavister come la partnership come quello che bisogna fare per iniziare a fare anche i corsi tecnici così come come diceva prima anche alessandro stiamo organizzando una giornata dove in qualche modo raggruppare le persone tecniche dei nostri partner e fare una sorta di certification dei e sarà nostra premura poi comunque comunicarve lo io vi ringrazio a tutti siete stati molto gentili e molto numerosi per fortuna e ci vediamo al prossimo webinar di clavister grazie mille grazie a tutti buona giornata buona giornata a tutti e buon lavoro grazie